In carrozza, forza ragazzi, grazie ragazzi, prima le donne e gli anziani, soprattutto le donne, vai! L'uomo a vent'anni è come l'accelerato, in tutte le stazioni fa le fermate, scarica tutti senza riprendere il fiato, le donne che ci viaggiano sono fortunate, invece a trent'anni è come l'indiretto, si ferma in capoluoghi e nel traghetto, i viaggi sono più lunghi e di fretta, agopera persino la cucetta, a quarant'anni è come il direttissimo, ferma soltanto nelle grandi città, Il motore ancora va benissimo, qualche controllata si fa far E l'uomo gira, e il treno va, e poi le donne che piacciono sopra ti fanno sognar Questo consiglio a tutti voglio dar, vai sempre con tu, 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 ciup, ciup, perché poi non lo potrai far mai più Si ferma a fare acqua a cinquant'anni, al motor cominciano gli affanni, Si arrugginisce nelle ferramenta, perdendo i colpi e spesso pur rallenta A sessant'anni poi non riparte, ha giocato tutte le sue carte, non fa rumore, non fa più baccano, E se ne va al deposito pian piano, siccome amici l'uomo è come il treno, Da giovani è meglio fare il pieno, questo consiglio a tutti voglio dare, Perché da vecchi non si può più viaggiare, e l'uomo gira, il treno va, e poi le donne che piacciono sopra ti fanno sognar Questo consiglio a tutti voglio dare, questo consiglio a tutti voglio dare, vai sempre con tu, 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 ciup, 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 Perché poi non lo potrai far mai più, e l'uomo gira, e il treno va, e poi le donne che piacciono sopra ti fanno sognar Questo consiglio a tutti voglio dare, vai sempre con tu, 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 ciup, 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 perché poi non lo potrai far mai più